E ciao Mario, non andartene più per così tanto tempo, come potrei resistere a questa distanza data dal nostro rapporto parasociale? Ecco il primo argomento! Da chi l'avete sentita questa parola? Ma vi pare che io possa fare finta di niente? Lele, grazie per il primo mese! Parasociale è la nuova parola vuota di internet! Eccola qua, benvenuta alla parola parasociale! L'ho sentita dire da Encalpub ieri, l'ho sentita dire da tutti, ma soltanto da due settimane, due o tre settimane! Sei mesi fa parasociale si diceva una volta ogni tanto, adesso si spamma, come è giusto che sia ragazzi, ci sono trends alla fine, no? Trends! Parasociale sarebbe tipo pseudosociale, staru, non mi interessa una sega di cosa voglia dire parasociale perché allora vorrebbe dire che io e Orome, visto che siamo stati per, a mia insaputa, due anni e poi un anno di commenti senza vederci l'un l'altro, quindi un vero e proprio esempio di rapporto parasociale per allora mi devi spiegare perché eravamo tutti stonati a Lecce una settimana fa però ovviamente stonati di amicizia, chiaramente, quindi non so che cosa vuol dire parasociale sinceramente io che stringo tra le mie braccia il boss, che è quasi morto di covid, però non è morto Diego, grazie per il secondo mese, bentornato! Ciao Mario, ti ricordi ieri quando ti ho stritolato le palle e poi abbiamo fatto megasesso dentro al cesso chimico? Se dal vivo tu mi avessi stritolato le palle senza il mio consenso, probabilmente ti avrei tirato un pugno Doffi già prima mi aveva stretto il polso ieri e gli ho detto se lo fai di nuovo ti demolisco mi sono girato e c'era un tipo con la telecamera così e lui mi ha fatto Mario ho fatto oh merda sono rovinato e poi dopo un tot sono andato da Poli, gli ho dato uno schiaffetto sulla nuca e lui mi ha fatto ehi! e io gli ho fatto te lo meriti e mi sono girato e c'era la stessa persona con la videocamera che mi diceva Mario! DPM 14! Chiao bello è stato un piacere vederti a Salerno minore 3 sei troppo bello Dippi sei un cucciolo, un pupazzetto sei ti riempirei di coccole un ragazzo di una positività immane non me l'aspettavo così DPM io mi giravo in qualsiasi tempo e condizione mi giravo e DPM era così e io ho provato a tendergli qualche trappola per capire se magari era una maschera tipo lo minacciavo di percosse gli dicevo stasera tu sei morto cose del genere e ogni cosa ogni trappola che tentavo di tendergli lui mi rispondeva ma dai ma perché fai così? Poli Beatdown è una merda Poli Beatdown è il format di Poli ciao Otaco San non ho 12 anni o Rome dai Danielino DPM ha 23 anni ma ne dimostra 12 comunque detto questo per chi non lo sapesse io ho fatto una discesa per l'Italia nell'ultima settimana che sono stato assente ho fatto vi spiego Ponte Dera sono andato a Terni per il Terni Comics poi dal Terni Comics sono andato a Salerno dove ho giusto frequentato senza esserne ospite sottolineo il Fanta Expo sono andato lì io proprio sono venuto sono passato a salutare Marco Dani che tra l'altro non viviamo più insieme ed è stato molto bello vederli Ciccio e c'erano anche tantissimi ragazzi della community ho ritrovato Alex Giov ho conosciuto Rome vabbè eravate un bordello e dopodiché da Salerno sono sceso con Alex o Rome e lo sceriffo Juanito per andare a Brindisi da Brindisi siamo andati a Tre Puzzi abbiamo fatto l'IRL l'avete vista tutti fributata da Flippo dopodiché dopo Tre Puzzi siamo andati a Lecce a fare serata a Lecce in Salerno io non sono mai stato a Lecce mi sono divertito tanto penso che Lecce sia una messina che ce l'ha fatta lo dico a parte che abbiamo praticamente lo stesso dialetto lo sapete vabbè io per Lecce ho un debolo e non essendoci mai stato ci siamo divertiti un botto tra l'altro abbiamo fatto primo round mentre andavamo a Tre Puzzi col Pullman da Salerno ci siamo fatti 30 minuti a piedi per raggiungere la stazione dove pioveva di rotto e noi abbiamo ignorato la pioggia come mai avevamo fatto incredibile che nessuno di noi si sia ammalato dopodichè sempre a Lecce secondo round pioggia incessante senza ombrelli ciao Mario ciao chat grazie per il secondo mese bentornato ciao Eleonora io sono come Jov fai bene essere come Jov poi dopo che siamo stati a Lecce io sono andato a Taranto per il cambio treno bus e sono andato a Messina due giorni a vedere giusto la famiglia Pippos Pippol li ho trovati molto bene e mio padre sta bene sempre in quella condizione di dialisi come sapete ma da buon Sturniolo è molto forte tiene botta sono fiero di lui e dopodichè ho fatto due giorni al Palermo Comic Convention e dopo i due giorni a Palermo sono risalito e ho fatto il pub dell'Amico Live ieri con 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 Claudione con Simone Panettone con Giorgio Powerone Hank ci sono scordato qualcuno Claudio Simone Poli Godo che me lo sono scordato davvero e Giammo e e anche Victorone un pub bellissimo che mi ha divertito tanto tanto con tutte le persone all'interno a cui voglio un macello di bene un macello ho pure conosciuto meglio Giorgio che mi è piaciuto tantissimo tanto 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 mi è piaciuto tanto proprio di una dolcezza che non avevo carpito all'inizio ma che ho perfettamente afferrato non c'era vocalita al pub di ieri e Giammo è un cucciolo voi avete secondo me una percezione di Giammo che non esiste veramente ieri la cosa più memorabile era la tua lotta col cucciolo di gorilla incredibile ieri la cosa più memorabile era la tua lotta col cucciolo di gorilla ma ti che parli Nico grazie per i 200 per i 200 bits momento migliore quando hai poggiato il c***o in testa Poli non ricordo nulla ma forse non è successo grazie per il primo commento vale e Betty si vedeva proprio l'amore nei vostri hoc siamo stati proprio bene siamo stati bene ci vogliamo bene Claudio in uno stato di grazia totale Darione emozionato era l'ultimo pub tra l'altro è stato annunciato che fosse l'ultimo pub live ovviamente non lo sapevamo nessuno tranne Dario il Mase Luke grazie per il quinto mese bentornato la mia voce è reduce dall'ultima settimana pure Giammo si è abbandonato in un bellissimo discorso per Darione nell'ultimo minuto di pub molto emozionante molto molto emozionante è stato un pub da un punto di vista di pubblico irripetibile perché si vedeva che si giocava in casa a Colle Salvetti la patria di Darione ma soprattutto il pubblico che era presente al pub di ieri era un pubblico con un grande amore nei nostri confronti non si parla semplicemente di andare a vedere la gente famosa come potrebbe fare un utente occasionale chi è andato al pub ieri complice anche sicuramente il fatto che fosse contrariamente a Villa Ada al pub a Roma un pub a pagamento si sono pagati dei dindini per entrare quindi quello secondo me filtra tantissimo un occasionale a una persona che ci tenne davvero a noi che ci voleva bene e c'era e si sentiva proprio a pelle dalle foto che si chiedeva alla battuta che si faceva a quello che le persone dicevano specificatamente all'altro a me hanno detto delle cose che è soltanto una persona che mi vuole veramente bene dice come sicuramente sarà successo il bellissimo momento per esempio quando una persona ha detto a Giorgio Power dal pub io sono al 35esimo mese con te mi abbracci e Giorgio che si è fatto il palco per andare ad abbracciarlo è stato molto bello è stato emozionante perché penso che sia molto importante per noi si lavorare si fare il lavoro dentro casa perché alla fine lo streamer lo fa ma in questa settimana anche con culture diverse perché Terni Salerno con le Salvetti Rayout grazie per l'anno insieme ciao Mario ti voglio bene ti voglio bene anch'io bro e ho visto un'infinità di persone che mi hanno voluto un bene sincero e non perché magari sono io anzi perché sono io non perché sono il mio nome e cognome questo dico ho sentito un un'espansione di bene nei miei confronti che non pensavo fosse così consistente numerosa non sto parlando della gente che mi ha voluto bene sto parlando cioè della gente che mi ha riconosciuto o che mi ha chiesto la foto sto parlando della proporzione di gente che si vedeva visibilmente dagli occhi che mi voleva bene e che se io stessi passando una giornata positiva anche allora avrebbe fatto differenza io sto parlando di quelle persone di cui non mi aspettavo fossero così tanto Marco Calta grazie per il primo mese vabbè momento emozionante finito perché Marco Calta non può che fare ridere è stato veramente bello tra l'altro c'è anche delle cose cosmiche ovviamente ho visto a Palermo e ho fatto serata a Palermo tutti e due i giorni con uno dei miei colleghi di teatro della scorsa compagnia precisamente quella da Grigento con cui ci siamo lasciati malissimo noi ci odiavamo eravamo quasi arrivati alle mani vivevamo insieme in casa e ovviamente io che non ho molto rancore nei confronti delle persone anzi quasi zero ho ciao Marco Calta non mi ricordavo nemmeno il motivo per il quale eravamo litigati ricordo soltanto che mi stava sul c***o perché eravamo litigati e ci siamo divertiti un botto tra l'altro mi ha fatto vedere dei video e delle foto di noi che facevamo gli esercizi vocali insieme che mi ha ovviamente intenerito il cuore e perché e perché questa cosa è cosmica perché nella casa in compagnia teatrale di qualche anno fa con questa persona io vivevo io lui è l'altro compagno di accademia che mi sta permettendo di tornare a teatro il prossimo mese eravamo io lui e lui quindi proprio nel momento in cui io inizio a studiare il copione per lo spettacolo teatrale per cui lavorerò per il mio compagno d'accademia io incontro e chiarisco con l'altro coinquilino con cui facevamo tutto insieme quindi wow bello bello per me non è un caso cioè sapete benissimo come la penso e detto questo ci sono tantissime cose da dire ne perderò 400.000 ieri anche se ero di fretta non riuscivo a dire di no a voi che volevate o una firma o una foto perché sentivo proprio che ci volevamo bene soltanto uno detto di no che era uno che mi ha detto Mario dai fai la foto subito io ho detto subito ma succhiami il c***o l'unica persona aveva avuto un radio di 0,1 voleva andarmene dal pub che avevo uno 0% di radio di rifiuti della foto ed è arrivato sto c***o a cui ho dovuto dire di no perché capito c***o ok ma non quanto quello del pub dell'amico di ieri che si è preso il microfono e che interrompeva Claudio Di Biaggio a parlare perché voleva il suo momento con l'amico mi hanno pure detto nel dietro nelle quinte faceva tipo vieni all'amico facciamo questa cosa un c***o di coglione a un certo punto Claudio gli ha detto va bene basta gli ho detto minchia grazie bro vi devo vi devo far vedere vi devo mostrare tantissime cose non sono tutte perché non le ho tolte ma pian piano ve le faccio vedere Toro grazie per l'undicesimo mese bentornato vi faccio vedere questa in prinis questo disegno incredibile di bedavirus c'è la mia versione drag meravigliosa e per il marione qua c'è scritto El Sarone quindi ringrazio El Sarone c'è anche questo che mi ha regalato una ragazza purtroppo non ricordo il nome ma c'è questa firma incredibile di questo bellissimo gorilla c'ho un botto di cose non le mostrerò tutte perché è un bordello ah vabbè quello di Orone ve l'ho ve l'ho già fatto vedere ve lo rifaccio vedere tra l'altro questo non è un gorilla qualunque è il gorilla Dzeko il mio preferito una bellezza lui mi ha rappresentato quando ti ho provato ah presentai il tipico che ti fa un capolavoro di cui tu lo abbracceresti dicono cosa da nulla oh ciao Wank che bello essere stati insieme che brutto che non ci siamo salutati non ho salutato nessuno bro ho fatto schifo ero mezzo rincoglionito al pranzo di oggi terribile ma c'aveva della piscina bellissimo 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 infatti lo metto qua ah non so se avete notato Rectangulus Onix Kiko è il Ready for Guys nel letto tutto qua Dzeko pure ok che dice 27 Manu che ho fatto cacciare dalla sicurezza del Palermo Convention è stata una soddisfazione per me in mane in mane e come non è stato soddisfacente vedere 27 Manu tutti e due giorni e manco un giorno Yato è il boss però vabbè Yato perché Yato è il boss perché è il boss facciamo così e sì 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 mi l'ho fatto cacciare dalla sicurezza è stato bellissimo tra l'altro è stato orribile come visione dall'esterno Fat Mario Bat Jazz Marione mi era mancato il tuo nasone a me era mancato tutto questo non vedevo l'ora di esserci tra l'altro sono distrutto dal viaggio e dal pub di ieri però probabilmente risiede un'energia infinita d'amore nei nostri confronti che non me la sta facendo sentire sentite che la voce è un pochino fuori rotta perché l'ho usata a proposito Pippo grazie per la sabbia giuseppe chirico incredibile anche quando Pippo si è ucciso di botte active laziness non è vero Pippo active non si sono mai visti ah minchia Poli mi odia sua moglie mi ama dice mi ha confessato gloria che Poli quando si sveglia la mattina controlla i miei messaggi perché io non so se sapete ma io lo devasto io gli commento in maniera provocatoria i VOD su Youtube i post di Instagram serrone grazie per il quarto mese bentornato i post di Instagram e l'ho contatto in privato per prenderlo in giro su delle cose e Gloria mi ha confermato che certe volte la mattina lei si sveglia lo vede nervoso e fa che succede amore Mario 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 e e io gli dico mentre lo fai io gli dico Poli io ti voglio un sacco di bene e anche tu mi vuoi lui mi risponde io un giorno ti ucciderò mi dice sì sì pure io ho pensato a Dinklerberg e e io ho detto Poli ma tu non hai idea del della ricchezza che abbiamo l'uno per l'altro la nostra rivalità è una cosa rara perché oltre che ci vogliamo un grande bene abbiamo la libertà di essere rivali l'un l'altro io ho delle cose che tu non avrai mai tu hai delle cose che io non avrò mai e mentre Gloria diceva è vero è vero lui mi diceva no Mario non hai capito io ti odio cioè non accettava questa situazione ma che in realtà che è palese no dai è bellissimo è bellissimo il nostro rapporto per me per lui no io continuerò ovviamente per questa cosa ma la cosa più divertente di tutto questo non è il racconto ma ovviamente quello che è successo quando ci siamo salutati non mi era mai successo mai successo e me lo chiedevano ma questi capelli ricci non ti creano problemi quando mi dicevano e non era mai successo lo abbraccio figlioli lo abbraccio mi allontano i capelli si impigliano nei suoi occhiali e glieli faccio cadere dalla faccia mi giro verso di lui che è così il destino che mi permette di consolidare una posizione di cui io sarò sempre fiero ovvero smascherare quel criminale Poli è l'unica persona al mondo che sia un ingenuo sia un politico ma come può essere un politico ingenuo ragazzi politico ingenuo uguale Poli non ce ne sono altri nel mondo è sia un puro sia un lestofante e non sto parlando di uno che sale sul cavallo in maniera molto veloce sto parlando di un lestofante cercate nel dizionario non sono qua a insegnarvi l'italiano San Giuliano di Poli non so cosa vuol dire ma ancora parli con Sdrumox nonostante il trasferimento quanto mi mancano tutti vabbè Job ha fatto chiaramente la presa per il culo ma che bello rivedere Daniele e Marco cioè ho avuto lo stesso effetto di quando Marco se n'è andato di casa dove il nostro rapporto si è visibilmente evoluto quando sono stato al Fanta Expo mi sono dato un abbraccio con Daniele unico che non ho mai avuto con lui mi mancano tantissimo tanto 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 cioè me l'hanno chiesto tante persone ti mancano Daniele ti manca Marco ti manca io rispondo sempre come l'aria sempre ogni secondo quei fratelli mi mancano quindi immaginate ogni volta che li rivedrò quanto sarà bello come col Fanta Expo quando li ho visti lì ho scoperto quanto gli voglio bene davvero perché vabbè non è molto spiegabile sono belli questo è un altro regalo che mi hanno fatto a Palermo mi sono cagato Castoshi grazie per il quarto mese bentornato la cosa più divertente di questa maglietta non è la grafica sentite questo suono? questo ragazzo o questo pazzo ha incollato una foto stampata nella maglietta sulla maglietta cioè io potrei anche staccarla questa foto io mi chiedo ma cosa ti salta come posso indossare questa cosa assurdo come c***o ti viene in mente è la maglietta più divertente del mondo per voi no ragazzi non la metto se la lavi che succede è una maglietta one shot ciao Mario ieri sera i bu che ti faceva il pubblico ogni volta che parlai mi hanno dato un sacco di fastidio non so come l'hai presa da personaggio o meno Travis ti sei scordato anche un sacco di applausi che mi hanno fatto è stato un bellissimo gioco dove dicevo delle cose a favore e mi facevano i bubo e dicevo delle cose contro di me e mi applaudivano in maniera incredibile non so se vuoi trarmi in una polemica inutile ma è bellissimo quello che è successo ieri sembra voler manipolare la storia mi hai tolto le parole di bocca anche perché ho ricevuto più amore ieri piuttosto che in tantissime altri mesi raggruppati è stato bellissimo e poi non è una novità che in quei contesti io sia un pochino la spalla comica da maltrattare per scherzo dopo si scende dal palco e mi dicono un sacco di cose belle e no è stato bellissimo perché mi facevano allora a parte che non vedevo l'ora di salire sul palco e quindi 3-4 volte sono andato là giusto per salutare la gente e mi accoglievano con un grande amore poi è arrivato Dario è nata la gag e mi facevano i boo ma soltanto un coglione soffrirebbe per quei boo chiaramente estrapolati dalla chat a cui siamo abituati ciao Mario sono il ragazzo del naso 3D me l'ero scordato questo pazzo mi ha regalato però cariote grazie per il primo mese un portaocchiali con un naso e dei baffi stampato in 3D ragazzi ma che c***o di regalo è ma che c***o di regalo è boh e bell'idea fantastica fantastica ma poi pure questo mi hanno regalato guarda che bello e tantissime altre cose che c***o dovrei recuperarle tra l'altro sapevate delle lenticchie quantiche no? della casa scorsa sono tornato a casa dopo una settimana e mi sono ritrovato sulla scrivania questa 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 è un barattolo di lenticchia quantica della casa a Milano vabbè ah ragazzi ma l'aeroporto di Pisa è una città universitaria è bellissimo l'aeroporto di Pisa è bellissimo sono uscito meraviglioso io che ho paura degli aeroporti dell'aereo è stato un toccasano arrivare a Pisa proprio bello tra l'altro la prima cosa che mi hanno detto quando mi hanno accolto all'aeroporto di Pisa io ho detto bello sto aeroporto subito hanno detto è meglio di quello di Firenze questo è internazionale quello di Firenze non lo è è la prima cosa non vedevano l'ora di dirmelo sti pisani porco due non vedevano la c***a di ora vedete questo internazionale non è quello di Firenze vabbè non l'avevo chiesto vabbè piccola rivalità toscana no ma non oggi ho detto a Chip ma scusa tu sei livornese sì allora perché il tuo dialetto mi sa di Pisano ha cominciato a sorridere come il Joker consentitemi di dire una cosa Cadrega grazie per la sub giftata grazie veramente per questo bellissimo ritorno non vedevo l'ora di riabbracciarvi ci aspetta una settimana di live non stop vi amo amo tutto questo tantissimo grazie cioè pensare che io mi sono fatto questa avventura che mi ha dato tantissimo in questa settimana con tutte queste città e sapere che sarei tornato nella mia nuova casa nel mio nuovo studio con voi colla che mi hanno detto la vasta è pronta figlioli io concorro ad essere lo dico qua una delle persone più felici del pianeta Terra e io questa felicità cercherò di darla ogni giorno veramente vi devo tanto vi devo tutto viva noi scusate per il ringraziamento smielato sono molto affettuoso credetemi che vero affetto e basta e scusate se magari non sono tenero ma sono melenso scusate